Boris Johnson ha chiuso app ristoranti ed altri ristoranti ubicati nel Regno Unito, andando a chiedere proprio a costoro di chiudere le porte nel tentativo di fronteggiare l'emergenza coronavirus COVID-19. Si è rivolto in particolare a tutta la nazione. Il primo ministro ha affermato che stava attuando le istituzioni più vigorose, ha sollecitato la chiusura di locali otturni, teatri, palestre, centri ricreativi e cinema, andando a delineare quelle che sono le misure preventive per far sì che l'emergenza coronavirus venga ad essere sconfitta o meglio risolta. Johnson avrebbe detto che, a seguito di un accordo congiunto con le amministrazioni decentrate, stiamo dicendo a bar, pub e ristoranti di chiudere stasera. Non appena ragionevolmente possibile è di non aprire domani. Insomma, chiusura per pub, ristoranti, discoteche. Vi ringrazio per l'ascolto. Il video termina qua. Un saluto e al prossimo video.